benvenuti in un nuovo video e benvenuti mamma mia io entro in questa stanza per registrare da settimane non voglio dire un mese lo sai l'ultimo video che abbiamo registrato? la degusta box ci sono ancora i residui questo è il primo video che io registro con i capelli corti si è vero devo fare un mucuma non ho scoperto non ho scoperto comunque oggi siamo qui è la prima volta che faccio pure il video con la videocamera con i capelli corti e questo sarà uno dei penultimi video con questo sfondo perché settimana prossima tra quasi due settimane neanche entra in vigore la primavera e mi stiamo ancora a dicembre comunque oggi siamo qui per fare un nuovo format un format che io ho fatto da sola gli inizi proprio del mio canale ti ricordi? proteico versus ah si si ok erano principalmente sempre prodotti prozis mi ricordo i oreo e poi abbiamo fatto pure un video originale versus sottomarca da bendate che ricordi infatti lo rifaremo quindi io direi di aprire le danze con i fangoccioli direi questi allora questi sono proteici e questi gli originali li ho pagati 2 euro i 65 ricordavo ancora il prezzo questi proteici non me li ricordo mi ispirano ma non li ho pagati tanto secondo me 2 euro non li ho pagati tantissimo ma vi lascio il prezzo anzi lo vado un ottimo a riprendere allora come si precisa grazie ma come sono i woods sono grandissimi questi sono pur sigillati ognuno mamma che si rimane speriamo che sono buoni come era questa buona ho fatto il video non hai visto lo short delle gole adoro vai 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 fa un po' di pubblicità l'esplosion ho fatto il video recensione c'è il mondo qua pure questa che dobbiamo ancora provare no guarda c'è proprio il cognuto ma dobbiamo prendere altri prodotti perché che proviamo solo questa che poi era l'altro che poi guarda cosa dobbiamo provare guacamole ma roba questi si è scaldosi no te ne vuoi esagerare 2023 dicembre 2023 ok questi dopo no no prossimo film prossimo film prossimo film ma sei pazza ma sei pazza cioè ti sei ricordata questo e non quello che tu metti nel carrello non ci pensi vai allora 3,99 euro 3,99 euro vabbè però mettici gli sconti non l'avrò mai pagato se teniamo no però alla fine ma che cosa hai mai sono proteici 240 grammi 6 per 40 grammi questi nella maniera bianca 8 un po' in più due due in più e le grammature 42 grammi 40 allora questo qui c'è pure proprio il pane proprio pan brioche cioè anche singolarmente comunque è un prodotto proteico per 100 grammi però considerate che ogni pangocciole è buono esatto io lo continuerò a chiamare pangocciole ma è un brioche se c'è solo un brioche poi si chiama rollo c'è solo un brioche allora per 100 grammi ha 300 calorie grassi 6,1 grammo carboidrati 51 grammi fibre 3,2 proteine 9,3 quindi diciamo per ogni roll ha 4 o 5 grammi di proteine ovviamente poi dopo lo confronteremo anche con l'altro e vedremo quindi iniziamo da questo giallo giallo si presenta sembra così cioè sembra più grande rispetto all'altro questo pure riscaldato questo riscaldato con nutella eccolo qua allora l'odore è previsto guarda sembra tipo un bagel c'è una goccia di cioccolato sembra il panetto dentro non lo fai vedere si sembra proprio il panettone non ci sono molte gocce gocce non ci sono molte gocce assaggiamo beh c'è sto e poi non lo mangia così del gatto inzuppato allora ti sente che è un alimento proteico? però però forse tra tutti e due preferisco di più il cornetto tu non l'hai provato il cornetto è proprio della stessa linea proprio l'ambrioche o del genere non è buffo sai che mi sembra? l'impasto della pizza proteica mettici il pomodoro uguale quello questo è un prezzo questo è un prezzo riscaldato e il fratto ecco sai cosa si sente? solo l'impasto le gocciole non si sentono perché l'impasto è troppo le gocciole le gocce di cioccolato Sto cercando di mordere Ma pure il cioccolato non lo so Nel senso dell'impasto Perché c'è troppo impasto Comunque Voto da 1 a 10 4, 5 Vabbè Sono sincera Non c'è neanche di dolce Io non lo riacquisterei Però domani Sicuramente faccio un altro vlog Se il telefono Fallo riscaldato Lo faccio riscaldato E vediamo cosa cambia Si Ok Ci vedrà Ma ci sono pregiostanti E poi Sono più piccoli Sono più piccoli Ma in realtà 42 grammi Questi sono 40 grammi Era una cosa enorme Questo ciascuno Però guarda com'è C'è Minuscolata Si vede Forse è per più Secondo me È la grandezza Cioè Forse è per più alto Al simbio Ah buono Se la mia conoscete Qua come è Si No ma Si vede A forse che c'è Questo è un panino Che si fa con un bombololo Un panino Allora Questo qui Mi vedete Sta mangiando Per 42 grammi A 140 calorie No scusami Per 100 grammi Perché dobbiamo confrontare Quelli alla fine A 334 calorie Quello ce ne aveva Molte di più 500 No non l'hai detto Si si L'ho detto Allora non era assenta 300 Per questo Cioè questo qua Che è calorie in più Per 100 grammi 334 Grassi 11,8 grammi Carbiterati 46,8 Fibre 3,9 Proteine 8,3 Dirello proteico Alla fine Stiamo quasi là Ovviamente Non è che uno guarda solo L'informazione nutrizionale La tabella nutrizionale C'è anche da vedere Tutta la lista degli ingredienti Però Su questo Non ci sosteniamo Alla fine però guarda Quello 3,99 euro Il prezzo ci sta tutto Perché considerare 1,50 euro in più All'altro Però quello È molto di più No Esteticamente Eh esteticamente Cioè la pizza Sia di più Ah sì E' più corposo Questo sì E' anche seppi il cicciolo Vai Vabbè Ma quanti anni Che mangiavo Vai Qua la cucciola ci senta Ma perché l'impasto È l'impasto Più compatto Mi si ricorda un po' È un fogottino Anche se Il sapore che aveva Una volta era diverso Ma ha lo stesso sapore Ma pure la grandezza Era molto più grande O eravamo noi piccole Quindi si sembrava Tutti o gigante Ah come la kinder Come la kinder fetta al latte Come la kinder fetta al latte Cioè minuscola Non la mangio da una vita Saranno anni e anni Non mangio da una vita Non c'è neanche il paragone No No abbiamo assaggiato la nuova cosa Non si prego No però la mattina Non ti aiuta a consumare E non è che il ciclo Che è la prima Bianco Cioè vabbè Perciò con il pannino No Nel latte No ma questo pure è riscaldato Il pane lo provo riscaldato Secondo me E' buonissimo Anche tu lo provi Ok Allora domani mattina Lo provi Antonella E' buono Non è buono E io Sì sì come la mattina Gli mando il messaggio Cinque e mezza Sei Lei poi si va E si sveglia Che no pure si stia sveglia Adesso Gli mando il messaggio Vedi che ti ho conservato I pancake Nel frigo Lei si alza Il telefono No perché lei non è che mi manda un messaggio Che io quindi Quando vedo la macchina il telefono Che lo carico Vedo il messaggio No Me ne manda dieci Quindi dico vabbè Qualche discussione Qualcosa mi ha scritto Mi sta mandando Poi con calma dopo Quando ho tempo La rispondo E poi vedo Vedi ti ha lasciato il Vedi Però Whatsapp gli esce Se vuoi bloccare questa casa Sì La mattina ormai Scusi io devo raccontare Tutti i miei aneddoti Nel treno Sì Cioè mi metto con calma Li ascolto E ti rispondo Esatto Allora Quindi nulla Voto da 1 a 10 Di cosa? Ah questi qua Sette 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 Siamo che questo video Vi sia piaciuto Fateci sapere ovviamente Se volete anche Altri video del genere Perché comunque I prodotti da provare Ce ne sono tantissimi Anzi se Suggerite Ne pure qualcuno Scriveteci E quindi nulla Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao